Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Telegarda. Iniziamo dando ampio spazio al dibattito che sta tenendo banco ad arco sulla destinazione dell'arteria di collegamento tra le parti est ed ovest della città, ovvero le vie Marconi e Garberie. Ad oggi sono 756 i giorni trascorsi dall'installazione della viabilità provvisoria e sperimentale con il senso unico per chi proviene da via Santa Caterina, indirizzato su via Roma. Una soluzione tutt'oggi ancora contestata da tutti gli automobilisti e i residenti. L'ultima novità è emersa dopo la festa di via Marconi, con l'idea da parte del comune di rendere addirittura pedonali le due vie del centro. Siamo dell'idea che ogni zona della città ha una propria vocazione e non è paragonabile o assimilabile. Le attività commerciali del centro storico hanno una connotazione prettamente turistica e sono fatte per chi può permettersi di andare per negozi passeggiando e mangiando il gelato. Poi ci sono quelle attività commerciali che devono offrire un servizio dedicato al cittadino locale, che in pochi minuti deve sbrigare tutte le sue commissioni presso quelle attività che dispongono di parcheggio e di prossimità. Sono i negozi cosiddetti di vicinato, che offrono un servizio ai residenti che non sono disposti a spostarsi nei grandi centri commerciali. Lì infatti la grande distribuzione può permettersi ampi parcheggi e superfici di vendita molto più ampie. Il senso unico di via Marconi, o addirittura la sua pedonalizzazione, andrebbe a stravolgere quell'equilibrio viabilistico e commerciale che garantisce ancora un servizio ai cittadini. Di questa rivoluzione che il comune intende mettere in atto non ne capiamo il motivo di fondo. Abbiamo sentito il parere dei commercianti interessati. Cosa ne pensa lei della chiusura di via Marconi di via Garberie e della sua pedonalizzazione? È d'accordo o è contraria? Allora, io sono contraria alla pedonalizzazione di questa zona. Penso che comunque questa sia una zona votata al traffico, cioè al traffico, alla viabilità. Arco secondo me non è come Riva e via Segantini non è come via Marconi. Togliere il traffico di qui secondo me fa morire questa zona invece di farla rivivere come pensa l'amministrazione comunale. Chiusura traffico via Marconi e via Garberie, contrario, assolutamente contrario. Vuoi per un'attività economica sulla strada che evidentemente sarà uccisa? Vuoi perché? Continuo a vedere qui Viale delle Palme assolutamente disabitato, laddove sì vorremmo coinvolgere il passaggio della nostra gente con la veranda fatta ancora dagli Asburgo, una cosa fantastica, con la veranda esagonale ad uso e consumo anche di concerti e da dove potremmo sradicare purtroppo della malavita che lì si sta sradicando. Invece la scelta è quella di portare la gente verso via Garberie, pazienza, non riesco a capirla, continuo a non avere questa idea. Allora con la pedonalizzazione di via Marconi e via Garberie secondo me il commercio, la parte di persone che non se la sentono, non hanno la possibilità o per vari motivi vogliono andare a fare le spese con la macchina usando l'automobile, si sposteranno tutto come già viene sui centri commerciali di via Santa Caterina. Ci raccontano di tutto in questo PUM ma non abbiamo ancora capito niente, ci sono i 30 loro e non li abbiamo mai fatti rispettare e avevo chiesto che venissero fatti rispettare i 50. Avevano posizionato le colonine, peraltro false, per stessa missione del sindaco, non sono servite a nulla. Han costruito un rondò fermo da due anni che non serve a nulla e a nessuno e ce l'abbiamo ancora lì. Fanno delle statistiche, fanno dei controlli su dove va la gente, su dove viene la gente, assolutamente ridicoli, sinceramente non credo sia questo il modo di agire. Cosa ne pensa lei della chiusura di via Marconi, di via Garberie e la sua pedonalizzazione? Sì, ma comunque sarà una pedonalizzazione per noi, perché infatti ho parlato con tutti, per noi commercianti non penso che sarebbe una cosa… e comunque penso che non c'è nessuno d'accordo tra i commercianti, perché anche come passeggiata vanno più di là che di qua, hai capito? Allora, di quello che abbiamo parlato con tutti non siamo d'accordo. Sono sempre convinto e penso sempre che una persona cerchi di mettere a posto prima la sala di casa propria e poi la cantina. Qui stiamo lavorando al contrario, mettiamo il pavimento bello in cantina e ci dimentichiamo di mettere a posto la sala. Se andiamo avanti così, secondo me Arco va indietro. Anche la festa che è stata fatta sulla via e le altre che sono in programma sono state un po' strumentalizzate dall'amministrazione comunale a mio avviso e secondo me non è questo l'intento. Sono partite dall'Assocentro per coinvolgere anche la parte periferica di Arco nelle manifestazioni, però non doveva essere una promozione alla chiusura della strada come è stata usata dall'amministrazione comunale. Allora, dei pareri contrastanti, nel senso che l'idea potrebbe essere interessante, però deve essere gestita con molta attenzione, in quanto chiudere una via che è di grande passaggio e che quindi porta a un afflusso di gente notevole. Per delle attività commerciali può essere molto dannoso. Cosa ne pensa della chiusura di via Marconi e via Garberie e della sua pedonalizzazione? Secondo me doveva rimanere tutto come era prima, come era in precedenza. Così non vedo nessun vantaggio per nessuno, ma neanche per la gente che deve andare al lavoro, per la gente che usa i mezzi pubblici, per tutta la gente che la usava. Non vedo il vantaggio di com'è adesso. Di conseguenza per me dovrebbe tornare tutto come era precedentemente, anche perché via Roma, metterla come l'ha messa adesso, frequentata come è frequentata adesso di macchine e traffico, insomma, è aver rovinato una delle vie più belle di Arco. Può essere fatto se viene riqualificata decisamente la zona. Devono crearsi delle attività commerciali, tipo nella casa del circolo pensionati, si devono creare magari un giardino, dei parcheggi che quantomeno siano vicini alla zona che viene pedonalizzata. Allora potrebbe essere un bellissimo sogno questo. Però ci vogliono delle certezze, altrimenti è meglio che rimanga com'è perché creerebbe un danno tale ai commercianti che porterebbe alla chiusura e probabilmente al fatto di far diventare la zona solamente residenziale. Se si fanno come è stata fatta la prova, metterla per la domenica, per il sabato, può anche andare bene perché viene chiusa, viene sfruttata la strada per mettere fuori le bancarelle e i giochi. Vorrei vedere senza bancarelle, senza giochi, nessuno avrebbe nessun vantaggio a avere la pedonalizzazione sulla strada principale. Perché vedo che ci sono spazi, abbiamo i giardini pubblici che sono stupendi, la penalizzazione è già fatta. Secondo me è tutto in mano ai politici. Loro devono decidere di fare le cose fatte bene e con criterio e senza magari fare dei rondò come sono stati fatti che hanno decisamente danneggiato la zona. Questo sarebbe sbagliato. Allora per noi era meglio sicuramente la soluzione precedente, cioè come adesso. E rifare anche via garberie magari a doppia corsia, come era una volta. O comunque se vogliono fare questo nuovo progetto, la cosa migliore per noi sarebbe fare dei nuovi parcheggi, magari nella zona dove c'è l'ex tennis, magari un parco giochi che sarebbe carino visto che sono i bambini tutti stipati in quel parco giochi piccolino qua di fronte a noi. e riqualificare la zona con i negozi, magari i ristoranti. Nei negozi dove c'è adesso l'ufficio informazioni, fare dei negozi, fare comunque rendere quella casa un po' più appetibile perché altrimenti qui è una zona morta. Togliendo il traffico qui è deserto. Io sarei favorevole nel momento in cui si riuscisse a creare un percorso alternativo per le automobili, in modo tale che in questa parte di strada si potrebbe fare un boulevard urbano come è successo già a Riva in Via Roma e Via Le Dante. È ovvio che però non possiamo scaricare tutto il flusso veicolare sulla tangenziale che è già abbastanza intassata con la rotatoria del poli. Io posso dire poco perché sono qui da dicembre e ho aperto da sei mesi. La cosa che vi posso dire è che il senso unico così com'è è veramente una cosa quasi impossibile perché quasi ogni giorno qualche persona entra in senso contrario e possono succedere degli incidenti non da poco. Per esempio una cosa che si potrebbe realizzare però immagino con dei tempi un po' più lunghi è per esempio un percorso alternativo ripercorrendo il percorso che c'era con la vecchia ferrovia Mori-Arcoriva che faceva via Baden-Paguel, passava davanti alla stazione delle autocorriere e poi tagliava tra Reggina e i campi sportivi con un ponte sul Sarca che è stato smantellato e che però sarebbe interessante riproporre quel percorso perché sarebbe molto veloce, molto dritto e agevole. Chiaramente a queste condizioni questo discorso sarebbe molto bello addirittura si potrebbe chiudere anche Via della Cinta e quindi il centro storico si affaccerebbe a questo punto direttamente sul Sarca, Parco Fluviale. In senso unico si può chiudere e secondo me rivalutando i giardini che è un verde e un bene che ad Arco, io sono di Bolzano quindi venendo da fuori posso dirvi che il verde che avete qui a Bolzano sia ad Arco, è meraviglioso. Quindi riqualificare il verde o facendo anche dei parcheggi, volendo però mantenendo un verde mantenendo dei giardini che vi hanno lasciato gli austriaci che sono un valore inestimabile. Ecco bisognerebbe fare un intervento a scala urbanistica seria e non come è stato fatto finora facendo qualche giochino di sensi unici perché voglio dire cambiare dei sensi unici ci vuole pochi impegni o pochi soldi però anche il risultato è veramente striminzito per cui o si fa un lavoro fatto bene anche ci vorranno 5-10 anni quello che ci vuole però la mia idea è quella di fare qualcosa che dopo serva per i prossimi 30-40-50 anni non metterci una pezza un po' come è stato fatto finora per esempio col senso unico qui in Via Garberie che ha portato più danni che altro insomma. Cosa ne pensa lei della possibile chiusura e pedonalizzazione di Via Garberie e Via Marconi? Allora io penso che sia positivo, possa essere positivo per tutti quanti solo che bisognerebbe creare l'indotto, cioè lasciare quattro negozi in fila seppur carini seppur abbiamo cercato di rendere questa zona più commerciale possibile non è sufficiente per un'isola pedonale secondo me la zona dei giardini secondo me va lasciata però all'interno della quale vanno appunto create delle strutture o dei negozi o delle attività che rendano più fluido il passaggio pedonale le cose che attualmente chiaramente non può essere men che meno con il senso unico che crea disagio il senso unico è veramente pericoloso, non porta comunque gente io ripristinerei come ho sempre detto anche nel comitato dopo se ne ho parlato con il sindaco, il vice sindaco e i compagni riporterei il doppio senso al momento nell'attesa che venga deciso cosa eventualmente fare di questa zona insomma è un'attesa che venga è un'attesa che venga